ciao ragazzi bentornati su real napoli football dal vostro vice football chiaramente innanzitutto ragazzi vi ricordo sempre che se vi piacciono i miei video mi farebbe piacere se mi sostenete se mi sostenete con un mi piace e anche con l'iscrizione al canale ve ne sarei molto molto grato in questa puntata andiamo a giocarci la sesta partita della divisione 4 come vedete siamo a 10 punti fatti sta andando bene questa volta 10 punti fatti e ci mancano due vittorie per puntare la divisione 3 che ragazzi sarebbe estremamente fondamentale perché a breve finirà anche la prossima questa stagione e chiaramente ci saranno le retrocessioni obbligate e quindi sarebbe diverso passare dalla 4 alla 7 non mi ricordo alla 3 alla 6 quindi guadagniamo una divisione per cercare poi di risalire subito abbiamo un bari napoli qui si è un derby societario abbiamo un bari napoli al sanicolo di bari vediamo i nostri amici baresi sugini baresi che fenomeni sono fuori casa e giochiamo senza raccamani senza raccamani con osticardi in campo dal primo minuto e lozzano pure non sta bene nemmeno politano nemmeno raspaduri porca troia e io lo sapete che faccio vi metto zerbin titolare vi metto zerbin titolare a destra zerbin titolare a destra ragazzi vi avrei potuto mettere elif elmas ma vi metto zerbin titolare ci siamo ragazzi ci siamo ragazzi si parte li vedo aggressivi eh lo botca allarga per quara schelia che si gira quara schelia attenzione quara 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 cavara all'alada avrò l'errore di quara attacca il bari attenzione li vedo molto lo vedo molto piazzato ragazzo attenzione osticard bellissima chiusura e poi la palla arriva a zerbin che appoggia per anghissa che non riesce ad appoggiarsi ad osimen attenzione quara e quara schelia proposti guarda chiudere messi sulla fascia dribbla mario lui arriva lobo ancora dribbling rimessi l'opo niente mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi prendiamo subito gol da bernardo silva ma bisogna valicizzare i giochi mario ruo prova da andare ok non si sentono più i suoni azi on bari on bari on fire il bari on fire il ragazzo è forte il ragazzo è fortissimo attenzione lobotica prova ad andare da osimen anghissa prova ad andare zerbin che recupera palla attenzione zerbin brandissimo palla per quara schelia tiro di quara miracolo del portiere qui gran tiro di quara schelia attenzione mario lui prova a ripartire ancora il bari di lorenzo palla per zerbin che si gira da quest'altra parte per sanghi sta dentro per zielischi zielischi mamma mia mamma mia un cross che era diventato un tiro e si salva qui il bari loro ovviamente hanno segnato subito noi invece dobbiamo bestemmiare i santi e le madonne poi di lorenzo appoggia dosti guard mamma mia lobotica anghissa per andare da zerbin brutti passaggi qui brutti brutti passaggi però zerbin ha approcciato alla grande dovete l'avere approcciato alla grande qui abbiamo recuperato palla ma anghissa la butta nel cesso e va bene così mario lui deve provare a chiudere i sommessi prova ad andarsene lobotica non riesce a chiudere nemmeno anghissa di lorenzo si fa bruciare da nemarra nemarra entra dentro meret prova ad andare lungo alex meret osimen prova ad appoggiarla ma zerbin è un po' lontano non riesce a recuperare palla anghissa attenzione palla per pempe chiude kim attenzione osimen non riusciamo a recuperare palla veramente complicato ragazzi questo qua è forte proprio eh ma anghissa in questo caso recupera palla di lorenzo palla per zerbin che la riappoggia di lorenzo che prova a cambiare tutto verso mario lui ma messi lo anticipa zierischi mario lui lo botta attenzione vede zierischi palla per anghissa anghissa siamo un po' fermi palla per mario lui anticipato da messi incredibile lo botta su messi non riesce a fare niente palla ancora loro la mette sulla sinistra casemiro allargo danimar attenzione di lorenzo bruciato danimar e poi recupera palla anghissa chissà allarga per zerbin prova ad andarsene zerbin sulla fascia si ferma zerbin palla per di lorenzo mario attenzione pronto ad impostare loro osti guard poi sparirà d'anticipo ma ovviamente nonostante il comando riesce a fare niente ma è retta la blocca la grande proviamo a rilanciare ancora verso osimen che allarga verso zerbin che l'appoggia dietro verso giannino di lorenzo di lorenzo si ferma di lorenzo palla per anghissa poi palla per zierischi lo botta prova il break ho fermato lobo la recupera però di nuovo lo botta attenzione lo botta prova ad andare dentro direttamente da osimen si ferma osimen osimen ho aspettato troppo ho aspettato troppo ragazzi mario lui prova ad andare da dietro anghissa niente zielischi attenzione messi un momento forse un po' di stasi zielischi ricopera palla allarga per kvara skele attenzione kvara kvara prova il dribbling andiamo a fallo laterale e andiamo da lobotka palla per zielo attenzione dentro per osimen che si gira dentro per zerbin attenzione zerbin maro vicino al primo gol col napoli zerbin peccato peccato ma ci stiamo provando a far vedere lì in avanti attenzione contrasta bene zielischi e qui anche siamo stati un po' sfortunati partita complicatissima kvara skele attenzione kvara skele al cross in mezzo c'è zerbin il portiere riesce a parare e a spazzare con pallone a sinistra sceglie di andare per via verticali bene primo tempo bene lui è molto forte ragazzi ma la partita è molto più equilibrata di quello che sembra in realtà alla fine lui ha fatto un solo tiro in porta mentre noi ben due c'è tempo per rientrare in partita ci siamo secondo tempo secondo tempo osyman lo botta andiamo da mario lui proviamo a far girare la palla un po' più velocemente anche se loro sembrano molto chiusi ah kvara skele la palla non arriva a zielischi niente da fare attenzione attenzione ah zielischi prova a chiudere zielo niente da fare riescono loro a cavarsela bene mario lui niente da fare non riusciamo a recuperare la palla nemmeno ancora zielo riescono a farla girare alla grande poi kim però recupero palla di kim osyman lo botta ha fatto un paio di passaggi senza senso zielischi attenzione provano con quell'ora ad attaccare adesso abbiamo un osticard di lorenzo contro ne mar di lorenzo bravissima e poi palla per anghissà che prova ad andarsene anghissà prova a fare un break anghissà ancora anghissà scende con la palla dentro per osyman poi palla per zermini cross in mezzo c'è zielischi bella azione bella azione meritavamo il gol secondo me secondo me il gol lo meritiamo ma per adesso non siamo riusciti a trovarlo attenzione caraschelia prova a pressare niente da fare zielischi zielischi osyman appoggia per zambu anghissà anghissà prova a scendere anghissà prova ad andare dentro da osyman a parte osyman è un po' fermo la palla molto corta di anghissà zielischi prova a dare una mano a mario ruico messi ci riesce zielischi recupera addirittura palla e palla per qui c'è quara schelia che adesso prova ad attaccare da solo tutta la difesa quara schelia dentro quara fermato senza fallo come al solito senza fallo secondo l'arbitro anghissà tabu non riusciamo ad arrivare ad avere un tiro un po' più pulito attenzione osyman niente da fare c'è la botca ah zielischi qui un bel break di zielo che prova adesso ad andare da quara fermato il passaggio di zielischi attenzione kim zielischi la botca vada anghissà anghissà osyman pensavo fosse solo un zermine invece no va a togliere un po' zermine adesso mi sa attenzione kim prova a chiudere non ci riusciamo di lorenzo poi anghissà anghissà vada zielischi osyman provano ad andare da quara ma c'è sempre qualcuno ragazzi non siamo non c'ho mai un giocatore libero lì davanti veramente difficile attenzione attenzione messi in contropiede messi 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 kim lo ferma alla grande kim che poi da palla a quiccia quara schella prova ad andare da osymane niente da fare vanno fatti il gol all'inizio guarda scicce su e attenzione allo botta che da fare mi hanno quasi l'impressione che stanno facendo melina voglio attenzione messi sì stanno facendo melina ragazzi per far passare tempo magari lui vai dai cavabbero dai dio cane bastardo figlio di una troia dai ma che cazzo però ma che cazzo vado a inserire il cio lido stiamo lobo più qua anche sta più qua togliamo zerbi mettiamo un po' elmas lì se gli altri stanno di merda vabbè vabbè ok proviamo con questa formazione strana vorrei cercare di abbeccare almeno il parigi Togliamo anche Zermin Proviamo questo strano 4-2-4 Attenzione Ostigard Palla arriva Meret Che può andare lungo Da Victor Rosyman Che appoggia ad Anghissa alla grande Anghissa Allarga verso Elmas La palla resta però nei piedi I giochi del Bari purtroppo Non riusciamo ragazzi Non riusciamo ad attaccare Di Lorenzo Meret va lungo ancora C'è il sciolito Rosyman Anghissa allarga verso Elif Elmas Elmas Cross di Elmas Devono pareggiare Che fanno bene a prendersi qualche rischio Anche i difensori per accompagnare la manovra Molto male Molto molto male Quara Schelia Di Lorenzo Grande break di Mario Rui qui Mario Rui Mario Rui Dentro per Rosyman Che allarga per Quara Schelia Che prova a ridarla Niente da fare Mamma mia che hanno fatto io Che hanno fatto io Se faccio una cosa del genere Prendo col 100-100 Kim Attenzione Lobo Palla per Anghissa Che provano ad andare da Simeone Per Rosyman La parata Non ci credo Non ci credo ragazzi Non ci credo Non ci credo E comunque Quanto meno il pareggio L'avremmo meritato In questa partita Quara Schelia Cross in mezzo Troppo sul portiere Ovviamente Can blocca Facile Facile Veramente peccato Io Parigio L'avremmo meritato A mani bassi Eh Mamma Finito 1-0 Brutto Brutto sconfitto Meritavamo almeno il pareggio Se non proprio la vittoria Molto male Molto male